Il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato internazionale per la messa al bando delle armi nucleari. 59 paesi nel mondo lo hanno ratificato. L'Italia non ha aderito. Vogliamo che il Comune di Pistoia si unisca a tante altre città per fare pressione sul governo affinché l'Italia aderisca finalmente al Trattato. Insieme a molte associazioni pistoiesi ad oggi abbiamo raccolto circa 300 firme. Per chiedere al nostro Comune l'adesione alla campagna Italia Ripensaci. Italia Ripensaci! Italia Ripensaci! Come presidio di Libera Don Peppe Diana anche noi gridiamo Italia Ripensaci! 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 Italia! Ripensaci!